43 anni di trasmissioni e il Movimento 5 Stelle stacca la spina a Radio Radicale. Perché? Quando sono arrivati in Parlamento dicevano lo apriremo come una scatoletta di tonno e forse non avevano coscienza che era già aperto in trasmissione diretta su Radio Radicale dal 1976. Tutte le sedute del Parlamento, le commissioni, i grandi processi in diretta, i congressi di tutti i partiti, compreso loro. Quindi a me sembra un intestardimento politico per far tacere le voci scomode. Noi, l'avvenire, il manifesto, non c'è nessuna pretesa di monopolio di Radio Radicale su niente. Ma l'apertura di una gara per continuare a offrire al meglio e a prezzi molto ridotti questo servizio ai cittadini italiani. Roberto Giacchettino, ospedale, ha sospeso poche ore fa lo sciopero della sete e continua lo sciopero della fame. Questa sarà una battaglia lunga e dobbiamo rinserrare un po' le file per capire a tutti insieme, Roberto compreso, la strategia da seguire per non cedere, diciamo, nelle prossime 24 ore. Dobbiamo continuare a difendere questa libertà di informazione, questo patrimonio che è stato patrimonio di tutti. È un bene comune Radio Radicale.